salve a tutti questa è l'ennesima recensione denon technology cd recorder cdr v15 doppio deck come possiamo vedere color oro sarà stato un modello degli anni 2000 credo sul settore sia registrazione che sia sul settore high end possiamo vedere le meccaniche interne che sono fatte di buona qualità tra parentesi ha un suono abbastanza fine vellutato come registrazione molto spettacolare costa anche un bel po di soldi a dire la verità perché andiamo all'incirca sui 2000 euro più o meno quando si vendeva vi faccio vedere subito un po il funzionamento faccio vedere prima come legge da una parte prendiamo un cd originale questo è il volume collegato alla cuffia poi andiamo sulla parte la parte rec ci mette più tempo perchè comunque il laser è più complesso nella lettura vi faccio vedere la parte posteriore uscita ottica naturalmente buongiorno buongiorno un suono veramente good fine va bene vi lascio e mi raccomando se avete piacere di fare questa visualizzazione mettete un mi piace giusto così ve ne farò altre salve a tutti